Brutto colpo, Ienaccio fuori tre settimane, ma tranquilli, siamo solo contro Milan, Atletico Madrid, Fiorentina e Inter Ci poteva andare peggio, Pacco è tornato, ecco è andata peggio, è andata peggio Quindi devo giocare con Pacco e Origi contro il Milan Per un pelo non è tornato Correa, e adesso siamo contro il Milan E vale lo stesso discorso della Juve della scorsa partita Se vince mi supera, se vinco io rimango primo E con Gustavo Polloni modalità campione sereno, e per fortuna sereno Napoli Milan, Pacco, 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 Pacco Tieri, Tieri, ti è infortunato, ma sei, sei, sei tornato E se non sei gnocci muori, si parte No, 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 cos'è tutta sta libertà, no, no, mamma mia Zoom è fortissimo, pallone libero per Pacco, Pacco col pallone, Pacco rientra Pacco tira, Pacco Ti è rinfortunato, ma sei drogato ed ha assegnato Il primo gol, Pacco fiero Pallone per Pacco, Pacco agitato, Pacco la crossa al centro per Origi Pacco col pallone di testa Pacco scatenato come un bambino Dopo aver mangiato un pacchetto di caramelle No, 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 Reina No, no, quanta libertà per Onda Tre minuti di recupero per cosa? Perché ha segnato Pacco È svenuta della gente e finisce al primo tempo 1-0 E no, e no, e no, Reina Zuma Origi Origi C'è sempre una prima volta per tutti E a quanto pare oggi Il pallone è crossato al centro Per Origi E finisce 2-0 Questo dimostra che tutti i mali non vengono per nuocere E che i miracoli esistono Cambiamo subito la formazione Mettiamo quella dell'ultima volta contro il Carpi Perfetto Solo che adesso non dobbiamo affrontare il Carpi Non voglio la Bulgaria Ma l'Atletico Madrid Con Liam Keimer in modalità campione Pioggia Atletico Madrid-Napoli Ottavi di finale di Champions League Una partitella Vietto Tre gol nelle ultime tre partite Un 10 a buio Ma non è crossato a centro Renato Sanchez Il campione d'Europa Sigla l'1-0 E se la gioca per Gabbiadini Fuori gioco No, 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 no Parata No, no, no Ed hanno pareggiato Contro piedi stupidi Costruiti all'IKEA E finisce il primo tempo 1-1 Vabbè che siamo a casa loro Ma fa lo stesso Io voglio vincere Non riesco più a fare un'azione dopo il loro gol Ma loro Sì Ma non ci credo Ma porca Passa il pallone per Gabbiadini Gabbiadini, Gabbiadini ci prova a giro e la para, è contro piede loro, va bene, all'ultima azione, guarda che roba ed è 3 a 1, è finita 3 a 1 per l'Atletico Madrid, e dobbiamo continuare a giocare con la squadra così, con Paco e Origi, e siamo sempre primi a pari merito, e se perdiamo la Fiorentina ci raggiunge, una facile no eh, con Filippo Giocoletti modalità campione sereno, Fiorentina Napoli, porca la miseria, all'andata abbiamo perso contro la Fiorentina, ma in Coppa l'abbiamo battuta, per il nientro Giorgino la tira, la devia, Origi, non ci credo, ma esattamente che operazione ha subito Paco, cambio dei piedi, bella azione, non copre nessuno Voreina, la passa, perfetta, Odegaard attraversa, pure il ragazzino vuole far gol, Paco, 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 Caduri va a te cacciare l'angolo, però Odegaard non è entrata, non ci credo, e sono due, e finisce il primo tempo 0 a 0, che bella giocata che ha fatto, mamma mia, nooo Reina, Caduri, ma dai, no 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 no, cosa ha salvato Zuma, è finita 0 a 0, ma almeno non si è avvicinata, e la Roma ha vinto, e adesso con Gianluca del Tarani modalità campione coperto, Inter Napoli, la semifinale di Coppa Italia, e ci sarà anche il ritorno, Ai ai ai, subito eh, e se col pallone, e se cerca di passare, se riesce, è rosso, era rosso, allora la crossa, pallonetto per sé, e boom la para, crossa al centro, e senza problemi culibali, cosa ha fatto, perché, 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 no, 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 mamma mia, the goal, li haic, ma se gioca nel Torino, vedete se, se non puoi fare una cosa in cenere, Troppi errori, troppi pasticci, Renato Sanchez, spero, e se, e se, è tornato, sono stato zitto un sacco, perché sbagliavano tutti i tocchi di prima, e di seconda, e di terza elementare, e finisce 1 a 1, che dire, sarà dura, e quindi, grazie a tutti per aver visto, io sono XM77, spero che questo video vi sia piaciuto, e ciao a tutti, e ditemi come mettere l'assetto tattico della seconda squadra in attacco, perché, via mia, Nacio, Correa, Paco e Aurigi, ciao!